L'unica cosa che so per certo è che questa è la Piazza della Libertà, se farò vedere dobbiamo ancora cercare un ufficio del turismo, non lo riusciamo a trovare Questa è una fontana che di solito non funziona, è una delle piazze qui in Geogia, non so se fatta apposta come in Macedonia, come a Scopie, e poi le piazze, se si può incontrare nelle piazze, perché c'è il traffico, ci sono le persone, ci sono le macchine, e quindi è una cosa molto particolare, ci stanno i parchi per incontrarsi, ma non le piazze, forse sarà qualcosa contro le manifestazioni, perché l'ha visto in Estonia, in Macedonia che funziona così fondamentalmente, addirittura c'è un sottopassaggio, per andare da una parte all'altra della piazza, la Piazza della Libertà, quel palazzo è, ta 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 doveva fare la manifestazione, boh, stanno le macchine, venuti nella Piazza della Libertà, sempre pensando alla pirlanta gente che ha votato a questa elezione, ovviamente, in Irlanta gente ha votato a questa elezione.